Grazie a tutti. Non è nulla, credo che Napolitano sia in questo momento l'unico che può dare un po' di serenità e soprattutto far ragionare le parti. Sono divisi in tre, è difficile mettersi d'accordo, ma due lo devono fare, se no si vada a votare perché alla fine con una nuova legge. Almeno facesse un piccolo governo di una durata breve ma che facesse due o tre punti per l'emergenza del paese, credo che a me non me ne frega niente di tutto, io guardo la gente che non va a fine mese, quella è la risposta vera, dovrebbero mettere a parte i loro egoismi e vincere per il paese. Il tuo presidente ideale qual era? In questo momento Napolitano non spacca il paese, mi sembra la soluzione più sensata alla fine. Grazie Massimo Giletti.